Ave queriti, ben ritrovati in un nuovo video, ci sono, come potete vedere dalla mappa, diverse novità dal fronte. Partiamo subito dall'Oblast di Kursk, qua gli ucraini stanno operando diverse puntate offensive. Diversi contrattacchi, iniziamo dal fianco destro, dal fianco orientale, gli ucraini si sono spinti a nord di Martinovka, di questo villaggio. In particolare hanno preso questa porzione di territorio, abbiamo una geolocalizzazione che ci testimonia questo movimento, questo aggiornamento sulla mappa, le posizioni ucraine sono sotto il fuoco russo. Quindi i russi stanno bombardando gli ucraini in queste posizioni in particolare. Gli aggiornamenti però più interessanti, più particolari, che secondo me sono da analizzare, sono quelli che arrivano dal fianco sinistro del territorio occupato dagli ucraini nella federazione russa. Qua cosa è successo? Ovviamente come sapete faccio un piccolo, torniamo indietro di qualche settimana, i russi hanno operato un attacco sul fianco sinistro ucraino, hanno preso, sono, hanno attaccato da Snagost, direttrice Snagost, hanno preso Snagost e tutte queste posizioni, diciamo, tutta questa porzione piuttosto significativa di territorio, sul fianco sinistro appunto, del territorio in mano ucraina. Poi cosa è successo? Qua gli ucraini erano riusciti a parare il colpo, a fermare i russi più o meno su Ljubimovka, questa località. I russi poi recentemente hanno operato un nuovo attacco, sono scesi da Korenovo verso sud-ovest, utilizzando questa autostrada appunto la Korenovo-Suzza, che va verso sud-ovest, e sono arrivati alle porte di Ljubimovka. Ljubimovka adesso è stata presa dai russi, proprio recentemente, e adesso c'è un pericolo di accerchiamento delle posizioni ucraine di alcune unità ucraine su Tolstilug, questa località, che parzialmente è in mano russa, ma all'altra parte è contesa tra le due forze, ci sono combattimenti. Quindi cosa è successo? È successo quello di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni, cioè che gli ucraini hanno portato nuove unità, nuovi rinforzi, nel settore di Kursk. In particolare, la 47esima l'avevamo già visto, era già presente a Kursk da qualche giorno, c'è la 36esima brigata a fanteria di Marina, sono arrivati nuovi rinforzi, lo vediamo dalle geolocalizzazioni, sono impiegati veramente tanti mezzi corazzati, da ambo gli schieramenti, in particolare la 47esima ha messo in campo i Bradley e gli Abrams, che abbiamo già visto sul fronte di Avdifka tanto tempo fa, la 47esima ce la ricordiamo per la difesa dopo la caduta di Avdifka in quel settore, nel settore di Occeretine e via dicendo. Ora la 47esima è qua, sta utilizzando veramente diverso personale, molti mezzi corazzati, ci sono combattimenti tra mezzi corazzati, vediamo in particolare qua un tentativo da parte ucraina, e questa è una delle novità del giorno. Cos'hanno fatto gli ucraini? Hanno tentato di risalire da sud verso nord, seguendo questa strada, sono arrivati in località Zeleni-Szliak, e hanno cercato appunto di tagliare via, di tagliare fuori tutti i russi che sono presenti qui a Novo Ivanovka. Qua a Novo Ivanovka ci sono degli scontri, è ancora quasi tutta contesa, però ecco gli ucraini evidentemente vogliono evitare, l'ho anche scritto, l'accerchiamento dei Tolstilug da queste parti, cercare ecco di alleggerire la pressione russa su questi due centri, su queste due località in particolare. Quindi un attacco da sud verso nord, cercare di allontanare i russi in particolare in questa zona. Questo è l'intento ucraino, ovviamente i russi sono presenti anche loro con mezzi corazzati, ci sono unità anche di un certo livello, parecadutisti, marins e fanti di marina e via dicendo. Vedremo, non ci sono ancora aggiornamenti nel senso che non sappiamo chi sta avendola meglio, però ecco, è un fatto che gli ucraini abbiano portato nuovi rinforzi. C'è l'accertamento, c'è la conferma che gli ucraini quindi stanno portando nuovo personale, nuovi mezzi corazzati, veicoli corazzati per la fanteria, carri armati, appunto abbiamo parlato di Abrams, vi ho fatto vedere un Abrams in particolare, a novo Ivanovka. Vedremo, ecco, questa è l'ulteriore dimostrazione che Sirski non ha abbandonato l'idea di mantenere un piede in territorio russo. Questa è l'idea del comando ucraino, vedremo se pagherà. Detto questo andiamo più a sud, andiamo nel settore più calcato, diciamo, di Kupiansk e in particolare siamo in una nuova direttrice d'attacco. Qua si sta parlando di un'avanzata molto contenuta ovviamente, però i russi qua stanno progredendo con relativa velocità rispetto ad altri settori del fronte, soprattutto in un punto dove il fronte è stato fermo veramente per tanto tempo. Qua siamo a sud di Kupiansk, molto a sud, siamo a sud del saliente di Pisciane. Qua i russi qualche giorno fa, qualche settimana fa, avevano preso questo villaggio, Anrivka, e ora sono praticamente con due piedi a Vishneve, quest'altro villaggio che sta a ovest di Anrivka, a sud-ovest. Hanno quasi preso tutta la località e quindi stanno creando un nuovo, molto piccolo saliente, in direzione ovviamente anche qui di Borova, fiume Oskil. Borova è una delle località che può vantare un ponte sul fiume Oskil. Quindi ecco, ha senso questo piccolo saliente per i russi. Potrebbe essere quella l'idea. L'idea è cercare di arrivare a Borova, che è comunque un centro piuttosto importante in questa piccola zona, e cercare poi di andare a prendere un altro ponte. Ne avevamo parlato tanto tempo fa di questo, di un possibile tentativo in questa zona. Dopo diversi mesi evidentemente i russi hanno trovato il modo, hanno trovato anche evidentemente delle difese ucraine più indebolite, quindi ecco, stanno avanzando in questo settore. Detto questo andiamo più a sud, andiamo in direzione di Terni. Qua, se vi ricorderete, anche qui cerchiamo di fare qualche passo indietro, i russi in questo settore hanno sempre fatto tanta fatica ad avanzare verso ovest. Su Terni gli ucraini sono ben posizionati, nonostante siano a valle, perché qua sono a valle, mentre i russi arrivano da un territorio che è più in alto rispetto a Terni, Yampolivka. Ora i russi ci stanno riprovando con un cambiamento, perché i russi rispetto al passato, al recente anche passato, perché hanno tentato di minacciare Yampolivka e Terni anche a inizio di quest'anno del 2024, i russi ora hanno Nevske, hanno questa località, quindi possono pressare, possono mettere pressione sia da nord che da est, quindi da due lati. Vedremo se ci saranno degli attacchi russi verso Novosadove, questo villaggio, e poi infine verso Terni. In particolare qua abbiamo una geolocalizzazione, c'è un attacco corazzato russo, c'è la sessantesima brigata meccanizzata in questo settore che sta difendendo ora dagli attacchi russi, Terni e tutte queste località che ho appena citato. Vedremo anche qui se i russi riusciranno ad avanzare. Nel caso riuscissero ad arrivare a Terni, beh, sarebbe l'ulteriore prova che le difese ucraine in questo settore si stanno lentamente degradando. Detto questo andiamo a sud, andiamo nella zona del saliente di Oceretine, direzione Pokrovsk. Qua i russi hanno operato un'avanzata verso l'Isivka, abbiamo una geolocalizzazione in particolare, c'è la 25esima brigata ucraina che sta difendendo queste posizioni, questo villaggio, dagli attacchi russi. Gli attaccanti hanno preso i soborghi più orientali di questo villaggio. Ovviamente i russi vogliono cercare di avvicinarsi il più possibile a Pokrovsk e quindi questi attacchi sono in quest'ottica. Come potete vedere però qua i russi hanno un attimino decelerato. Evidentemente stanno cercando di migliorare le loro posizioni su Selidove e poi, anche più a sud, adesso lo andremo a vedere, su Kurakove. Per poi spingersi forse Pokrovsk la tengono per fine anno, nuovo anno. Quindi anche qui vedremo. I russi sono praticamente nei soborghi di Mirnograd e sono un pochettino più lontani da Pokrovsk, però ecco sono veramente vicine. Gli ucraini si staranno preparando, staranno preparando le difese per questi due importanti centri. Vedremo quali saranno gli aggiornamenti. Come dicevamo, Selidove qua i russi continuano ad attaccare a sud del Terricon. Stanno attaccando centralmente, anche se sappiamo, ve l'ho riportato, che i russi stanno lavorando le difese ucraine sia a sud verso Vishneve, questa località che sta proprio a ovest di Selidove, sia a nord dove i russi stanno lavorando lungo l'autostrada che costeggia Selidove e arriva poi verso nord, verso Pokrovsk. Qua in particolare abbiamo una geolocalizzazione, i russi stanno attaccando con la fanteria e stanno cercando di prendere sempre più posizioni, sempre più case basse nel cuore, qua stiamo andando un po' nel cuore, nel centro della cittadina di Selidove. Detto questo andiamo più a sud, andiamo in direzione di Kurakove. Qua come potete vedere abbiamo tanti aggiornamenti. Iniziamo con Zoriane, i russi qua hanno attraversato il fiume Ciatolo, il fiume Vovcia e sono arrivati a Zoriane, hanno preso gran parte di questo villaggio, c'è una geolocalizzazione che ci mostra la bandiera russa sulla scuola, su una delle scuole di Zoriane, e poi a nord abbiamo altri aggiornamenti. Prima di tutti i russi hanno preso Gelannedrughe, quest'altra località, questo villaggio, e poi sono con più di un piede a Ghirnik. Località piuttosto importanti in questa zona perché contava prima della guerra più di 10.000 abitanti, quindi è un centro piuttosto di rilievo importante rispetto a Gelannedrughe o a Zoriane, ecco sicuramente più grande a livello di dimensioni. Qui cosa sta succedendo? Evidentemente i russi hanno capito che le difese ucraine si stavano degradando e quindi sono avanzati da est verso ovest e stanno prendendo tutto questo agglomerato urbano che appunto conta Ghirnik, Kurakivga, Zoriane e via dicendo. I russi potevano attaccare, avviluppare, minacciare di accerchiare tutta questa zona, però evidentemente hanno pensato di attaccare direttamente in modo tra virgolette frontale. Vedremo ecco dove arriveranno, cosa porteranno questi attacchi russi. Detto questo andiamo leggermente più a sud, in zona Maximilianivka, qua i russi hanno operato delle avanzate, stanno facendo quello che avevamo detto, quello che avevamo discusso, cioè cercare di migliorare le posizioni su Maximilianivka e a ovest di Maximilianivka per preparare l'approccio all'obiettivo, al colpo grosso di questo settore, Kurakove. Cittadina importante per i russi. Qua in particolare abbiamo due geolocalizzazioni, abbiamo una bandiera russa sui soborghi più occidentali di Maximilianivka e poi abbiamo un attacco corazzato russo. I russi quindi si stanno già spingendo verso Kurakove. Siamo veramente vicini. Prossimamente, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, i russi penseranno presumibilmente di occupare tutta questa zona di campi. A questo punto, una volta che il territorio sarà ben razionalizzato, avranno tutto questo territorio in mano tra Ostrivske e appunto i soborghi più occidentali di Maximilianivka, i russi inizieranno a procedere verso Kurakove, verso questo importante obiettivo. Detto questo, andiamo più a sud sull'ultimo fronte. Anche qui abbiamo tanti aggiornamenti russi. Stanno migliorando le loro posizioni a nord di Konstantinivka, a sud di Pobieda, sulla 0532, l'autostrada appunto che taglia Konstantinivka e poi scende giù verso Vuledar. Qua c'è un attacco corazzato russo che in particolare ha preso di mira una roccaforta ucraina in questo settore. Quindi i russi hanno preso tutti questi territori, tutti questi campi al di qua della 0532, l'autostrada, e si stanno avvicinando anche i russi verso Antonivka e Katerinivka. Su Katerinivka le operazioni sono ad un punto piuttosto avanzato, i russi sono nel cuore di questo villaggio, hanno attaccato, hanno preso praticamente quasi tutta la parte più orientale, hanno preso dei campi a sud, a dire il vero i russi hanno preso diversi, diverse posizioni nei campi qua, anche vicino a Vodiane e anche in direzione Bogoyavlenka, quest'altro obiettivo che sarà importante per capire determinate cose nel prossimo futuro. Però tornando a Katerinivka i russi sono attivi a sud e ormai nel cuore di Katerinivka. E non solo, così facendo minacciano anche Antonivka. Qua in particolare su Antonivka abbiamo una geolocalizzazione, c'è un assalto della fanteria russa proprio nei soborghi più orientali del villaggio appunto di Antonivka. Quindi ecco, questa è la situazione, i russi sono molto attivi. Dopo una situazione non facile su Novomikailivka, su Paraskovivka, su Kostantinivka, alla fine i russi sembra che abbiano accelerato anche in questo settore, come potete vedere. Vedremo anche qui quali saranno gli sviluppi. Detto questo abbiamo finito, fatemi sapere cosa ne pensate degli aggiornamenti, delle analisi che vi ho fatto. Scrivete ovviamente nei commenti, mettete mi piace, iscrivetevi se vi è piaciuto il video, se vi piacciono i miei video. Detto questo abbiamo finito. Un saluto dal vostro Davide.